Milano, si sa, va veloce, a volte, spesso, corre. Ma per far correre i milanesi servono mezzi e infrastrutture, quelli che ATM mette da sempre a disposizione. Definire l'azienda dei trasporti milanesi un'istituzione è riduttivo, perché ATM è Milano e lo è da oltre 90 anni, quasi un secolo, in cui tram, autobus e metropolitane hanno osservato la città, catturandone le trasformazioni. Oggi tutto questo va online. L'azienda di Foro Bonaparte ha infatti messo a disposizione di tutti, e a distanza di un click, oltre 3.000 immagini storiche della città. E non si tratta solo di scoprire che i tram sferragliavano tranquilli nel bel mezzo di Piazza del Duomo o osservare l'emozione della città all'inaugurazione della linea rossa della metropolitana nel 1964, ma piuttosto di immergersi in un racconto sulla crescita di Milano, sulle sue abitudini, sulle sue stranezze, piazza dopo piazza, quartiere dopo quartiere. E il viaggio, perché di questo si tratta, non è arrivato al capolinea. Le 3.000 fotografie pubblicate sono solo un assaggio delle oltre 100.000 immagini che il fondo di ATM conserva. Questa prima selezione è infatti costituita principalmente dagli scatti fotografici databili fino agli anni 70, ma molti altri se ne aggiungeranno. Un tassello di fondamentale per la salvaguardia del patrimonio storico di Milano e per la narrazione della sua storia recente.